Scadrà lunedì 2 febbraio alle 10.30 al termine ultimo per partecipare alla gara per l'appalto del servizio di refezione scolastica agli alunni della scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado di Alcamo. Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità presso il settore servizi al cittadino sviluppo economico in via Pia Opera Pastore. L'importo complessivo compreso di IVA è di 455 mila euro circa, prezzo a base d'asta per pasto, 3,70 euro per gli alunni della scuola di infanzia e primaria e 4,80 euro a pasto per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, insegnanti e personale ATA, IVA e scusa. La gestione riguarda la preparazione, il confezionamento, la consegna e la somministrazione di pasti, nonché la preparazione e il riordino degli spazi, dei locali e delle attrezzature. La preparazione dei passi avverrà nelle cucine comunali Frebel di via Pia Opera Pastore, Collodi di via Gozzano e presso il centro di cottura messo a disposizione dalla ditta giudicataria adeguatamente arredato, attrezzato e munito delle autorizzazioni e abilitazioni sanitarie e amministrative necessarie. L'inizio dell'appalto è previsto presumibilmente il 1 aprile prossimo. Torniamo a Marsala, parliamo di politica amministrative spezzatino. Quadro politico molto frammentato in città in vista delle comunali di primavera. PD, Forza Italia, la sinistra e probabilmente articolo 4 lanceranno una propria candidatura. Si ipotizza un quadro politico sempre più frammentario a Marsala in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera. Il PD lancerà un proprio candidato sindaco e molto probabilmente farà lo stesso articolo 4 e persino la sinistra andrà per la sua strada. Da ieri anche Forza Italia annuncia una propria candidatura ed ancora non si sono espresse tutte le forze politiche e i movimenti moderati e non che operano in città. Gli azzurri hanno ufficializzato la propria candidatura nel corso di una manifestazione organizzata lo scorso fine settimana a cui hanno preso parte i vertici provinciali, regionali e nazionali del partito. Forza Italia, ha sottolineato il coordinatore regionale dei burlusconiari, Vincenzo Gibino, esprimerà un candidato sindaco per la città e il nome che sarà proposto attraverso dei confronti con i componenti del partito avrà il compito di guidare tutto il centro-destra alla vittoria perché Marsala non può continuare ad essere amministrata da questo centro-sinistra che ha distrutto tutto quello che di buono era stato fatto in passato. Stiamo lavorando, ha aggiunto il senatore Antonio Dalì, per dare a Marsala un programma vero di sviluppo socio-economico e una squadra in grado di realizzare grandi progetti e buone prassi amministrative. Il PD va invece inesorabilmente verso le primarie che, è stato confermato, si terranno il prossimo 8 febbraio. Tra i candidati Luigi Giacalone, Anna Maria Angileri e Alberto Di Girolamo, tutti uomini di spicco dei democratici a Marsala. Occorre coraggio e rinnovamento, ha detto l'Angileri, rideremo vigore alla raccolta differenziata con il potenziamento delle isole ecologiche e organizzando un sistema di sgravi per i cittadini che conferiranno la differenziata nei centri di raccolta. Il contratto con l'Aimeri deve assolutamente essere rivisto a causa di un servizio troppo costoso e spesso discutibile. Giacalone ha invece espresso l'intenzione di valorizzare la prestigiosa forza economica e imprenditoriale che opera proprio nella periferia. Marsala è una città per cui vale la pena mettersi ancora una volta in gioco, dice invece Di Girolamo. Il Partito Socialista ha assicurato che continuerà a rimanere al fianco del PD. La linea politica condivisa dalla dirigenza, si legge in una nota, è quella di continuare a dare il necessario appoggio al PD nell'ambito del rapporto sancito dal patto federativo ed invita i compagni a partecipare copiosi alle votazioni per le primarie, lasciando loro libertà di scelta. Subito dopo le primarie bisogna però continuare il dialogo con le forze che si riconoscono nel centro-sinistra. Il Movimento Rinascita Marsalese presenterà invece una propria lista alternativa a quella della coalizione di centro-sinistra. Lo hanno annunciato con una nota i consiglieri comunali Salvatore Di Girolamo e D'Antonino Augugliaro. Dal 1993 ad oggi, scrivono i due consiglieri, su cinque consigliature comunali, in ben quattro di esse si è registrata la presenza al governo della sinistra. Questi 22 anni sono stati caratterizzati solo da una cattiva amministrazione. Nel corso dell'ultima seduta di consiglio comunale a Petrosino è stata approvata all'unanimità dai 12 consiglieri presenti in aula la delibera che rende esecutivo il PAES, il piano d'azione per l'energia sostenibile voluto dal patto dei sindaci. Il comune di Petrosino parte da un dato di 24.000 tonnellate di CO2 prodotte. Per l'abbattimento di questi valori, il comune ha già intrapreso delle iniziative concrete come la sostituzione dell'impianto di illuminazione pubblica con fari a LED a basso consumo, l'acquisto di una macchina elettrica da utilizzare al cimitero comunale, la sostituzione degli infissi con vetrocamera alla scuola Fanciulli. Stesso intervento previsto per l'Istituto Nozengo, i cui lavori si completeranno nel corso di quest'anno. L'obiettivo finale del PAES da qui a 5 anni è quello di riuscire ad abbattere del 23,9% le emissioni nocive per il clima. Entra nel vivo il progetto Courage finanziato dall'Unione Europea. Sono operativi due sportelli help desk sia ad Alcamo che a Castellamare del Golfo per fornire informazioni e consulenze gratuite a chi intende intraprendere una nuova impresa o anche a chi ce l'ha già e intende migliorarne la competitività. Sono due e già attivi gli sportelli help desk creati ad Alcamo e a Castellamare del Golfo nell'ambito delle attività del più ampio progetto Courage coordinato dal Comune di Alcamo. A gestirli due partner di progetto, la Proloco di Castellamare del Golfo e lo stesso Comune di Alcamo. Gli obiettivi principali dello sportello sostenere la creazione di impresa, i giovani e il settore sociale fornendo consulenza e informazione, un servizio integrato e completamente gratuito. Nato nell'ambito del programma di cooperazione trasfrontaliera Italia-Tunisia 2007-2013, il progetto Courage realizza una partnership siculo-tunisina coordinata dal Comune di Alcamo, ente capofila, i cui partner siciliani sono l'ASP 9 di Trapani e la Proloco di Castellammare, mentre i partner tunisini sono due prestigiose storiche associazioni, Appel e UTSS. Courage è un progetto che riguarda l'imprenditoria sociale in ottica di parità di genere e abbiamo partecipato a questa call che è stata promossa da Forum PA, Forum Femminile, Microsoft e Asus e siamo stati selezionati appunto come progetto che utilizza l'innovazione in ottica di parità di genere. Courage, presentato nel giugno scorso al Centro Congressi di Marconi di Alcamo, è stato finanziato per un importo totale di 390.000 euro, ha una durata di 18 mesi ed è articolato in 5 gruppi di attività che saranno gestite dai partner di progetto. Tra queste attività l'Help Desk, che si rivolge a chi vuole creare impresa ma anche a chi ce l'ha già e ai giovani che intendano immettersi sul mercato del lavoro con una idea imprenditoriale nel settore sociale. Lo sportello in estrema sintesi offre ricerca di opportunità di finanza agevolata per l'avvio di attività da parte di neoimprenditori o per il consolidamento di imprese già avviate, ricerca di avvisi e bandi pubblici regionali, nazionali e colle europee, consulenza su strategie aziendali, informazioni di carattere legislativo, commerciale e finanziario sulla creazione di impresa. Ad Alcamo lo sportello riceve il pubblico il martedì e il giovedì al Palazzo di Vetro in piazza San Cosè Maria e Scrivà, mentre a Castellamare del Golfo in corso Garibaldi il lunedì e il giovedì. Lo sportello è attivo anche sul web. Collegandosi al portale di progetto è possibile ricevere una consulenza online. Gli esperti rispondono alle email ma anche acquisiti in tempo reale grazie ad un sistema di chat. Inoltre ci si può aggiornare consultando le news che riguardano bandi e avvisi pubblici, normative e leggi che riguardano il mondo dell'imprenditoria sociale e non solo. Per una agricoltura al passo coi tempi è il titolo del seminario che si terrà giovedì alle 17.30 verso il circolo Acli Giovanni Paolo II di Rilievo. L'iniziativa è organizzata da Acli Terra Trapani in collaborazione con il Centro di Assistenza Agricola Acli. È un seminario rivolto agli operatori rurali e ai cittadini per far conoscere le opportunità sociali, ambientali ed economiche veicolate dall'Unione Europea nell'ambito della politica agricola comune, spiega il presidente provinciale di Acli Terra, Leonardo Peralta. Nel corso dell'incontro saranno illustrate le misure a sostegno al mercato e alla politica di sviluppo rurale orientata al raggiungimento di tre obiettivi. La competitività del settore agricolo, la gestione sostenibile delle risorse naturali e lo sviluppo delle economie e delle comunità rurali, compresa la creazione e la difesa dei posti di lavoro. La cantina borbonica di Partinico, presto con ingresso a pagamento. L'amministrazione comunale vara un tariffario, previsti anche banchetti e cerimonie. Si arriverà a pagare per l'affitto fino a 300 euro al giorno. Il Museo del Contadino e dei Pupi, le straordinarie architetture dell'Ottocento, ma soprattutto la gloriosa storia della cantina borbonica di Partinico, presto potrebbe mischiarsi tra cerimonie e banchetti a suon di panelle, rancine e olive a scolane. L'amministrazione comunale ha introdotto un prezziario per fruire del bene monumentale e figura anche la possibilità di banchetti per matrimonio o servizi fotografici. Un prezziario che entra in vigore attraverso una delibera di giunta, ora sarà l'amministrazione comunale stessa a decidere il giorno della partenza vera e propria dell'introduzione delle tariffe. Le tariffe per il biglietto di ingresso, sottolineano il sindaco Salvo Lobiun della sua giunta nell'atto deliberativo, sono state approvate in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento per la gestione del bene. Esiste infatti un testo varato nel 2012, non senza strascichi polemici, che di fatto è rimasto letteral morta sino ad oggi, motivo di confronto anche aspro, tanto da essere nato un apposito comitato per valutare e modificare il testo. In realtà oggi quello che entra in vigore è sostanzialmente il piano che era stato predisposto e contestato nella scorsa legislatura. Nel frattempo però è calato il silenzio attorno alla cantina. Da quando sarà in vigore il tariffario per entrare alla cantina si pagherà anche l'aria che si respira. Il singolo cittadino corrisponderà 6 euro, sconto del 30% per minorenni e per chi ha superato i 65 anni. Pagheranno la metà, comitive superiori alle 25 unità. L'ingresso è gratuito per disabili, guide turistiche, scolaresche, consiglieri e amministratori nell'esercizio delle loro funzioni e studenti universitari per studi connessi alla cantina. Chi vorrà allestire mostri o altri eventi di carattere culturale dovrà pagare sino a 50 euro al giorno. Il doppio invece per chi organizza convegni, conferenze o concorsi per eventi culturali e per servizi fotografici per nozze o altre cerimonie. Si sale a 150 euro per convegno o riunioni di carattere ricreativo. Il tetto massimo delle tariffe spetta a mostre, servizi fotografici a scopo commerciale e per rinfreschi di nozze. In questo caso si dovranno sborsare sino a 300 euro. La cantina Borboni che è oggi sede del Museo Contadino è del Museo dei Pupi ma la struttura non ha mai speccato il volo per le sue effettive potenzialità. Era stato annunciato che entro il 2013 doveva diventare sede dell'Enoteca regionale e che per la sua valorizzazione sarebbe sorta una fondazione ma nulla di tutto questo si è concretizzato. Il bene monumentale è stato ristrutturato ed aperto nel 2008 grazie ad un finanziamento di 4 milioni di euro stanziati dall'Unione Europea. Si tratta di un sito di notevole pregio storico eretto per volere di Ferdinando I, re delle due Sicilie, che ne fece centro di raccolta e vendita di vini, oli e liquori dell'azienda reale prima di cadere nell'oblio e diventare addirittura luogo di summit di mafia. Poi il comune di Partinico acquistò la struttura e da lì ricominciò la lenta rinascita. Ed ora uno sguardo agli appuntamenti previsti nei prossimi giorni. Domani, mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio si terranno i prossimi incontri con i laboratori di lettura ad alta voce per i più piccoli presso la sezione Il Piccolo Principe della Biblioteca Diocesana di Trapani. I laboratori sono gratuiti ma è preferibile prenotare per la partecipazione mentre avverrà sabato 31 gennaio alle 17.30 presso l'auditorium del Collegio dei Gesuiti di Alcamo la presentazione del libro del professore Antonio Bellingreri dal titolo La famiglia come esistenziale. Antonio Bellingreri è professore ordinario di pedagogia generale all'Università degli Studi di Palermo. Ha fondato e conduce i cenacoli di Edith Stein di Vita e Cultura Cristiana ed è condirettore della rivista Pedagogia e Vita. E con questi appuntamenti si conclude il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e buon proseguimento a tutti.